Si chiama QR Places, l'ultima integrazione tra cultura e multimedialità lanciata durante il FestArc 2011 a Perugia. Il progetto è stato presentato nella sala della Vaccara all'interno del Palazzo dei Priori, alla presenza del sindaco del capoluogo Umbro, Vladimiro Boccali. QR Places è un'applicazione disponibile per Apple, Android e BlackBerry che consentirà con una semplice foto di conoscere architettura, riferimenti storici e ogni informazione che riguarda tutti i monumenti della città. Perugia sarà la prima in tutta Italia a dotare ogni monumento di una vetrina con QR Code, una specie di codice a barre che ogni visitatore con l'applicazione installata potrà fotografare con uno smartphone o un tablet, ricevendo sul proprio apparecchio tutte le informazioni desiderate. Multilingua e integrabile con i principali social network, QR Places sarà una nuova frontiera anche per eventi e attività commerciali, permettendo a promotori e negozianti di pubblicizzare la propria impresa.